Grazie a tutti. 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 Sì, però mettilo via, dai. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un testo di c***o, blocca tutto il traffico dalla parte apposta perché deve sorpassare. Ma f***o, ma se sono rimasto fermo io? No, lui no, lui deve passare. Che testo di c***o? C***o, sei un po' in mezzo al c***o, sei un po' in mezzo al c***o, eh? Che bello, mi piace così, mi piace così, mi piace così, guarda come mi casa, che bello. E' un po' in mezzo al c***o, mi piace così, guarda come mi piace così, guarda come si fa, ma è un po' in mezzo al c***o. per tagliarmi la strada, che io non lo so zio cane ho aspettato che io mi avvicinassi e poi ho passato ma f***a fermi tutti come avete visto anche nelle clip precedenti finchè sei fermo e non crei pericolo non mi interessa se usi il telefono in questo caso specifico però era evidente che avrebbe continuato così le ho chiesto per favore di metterlo via scusa gentilmente potresti metterlo via? per favore per favore ti sto disturbando? ti ho disturbata scusami cara non volevo ti sembra il caso di andare in giro così? vuoi salutare qualcuno? sei su youtube? ti ho chiesto una cosa gentilmente cara io sto pensando a guidare tu pensi al telefono invece? i tuoi figli ti vedranno su youtube salutali dimmi se si può andare in giro così guarda il telefono ma io non lo so gliel'ho chiesto gentilmente o no? mi sembra che gliel'ho chiesto gentilmente mi sembra mi sembra che gliel'ho chiesto mi sembra che gliel'ho chiesto与 Grazie a tutti